Un caro saluto da Agnese Scappini, questo è il mio contributo podcast per Opinion Bifarmo. Sempre più spesso una delle domande che mi viene rivolta sia nelle varie interviste che a studio riguarda appunto la tecnologia. In chiave un po' critica mi viene chiesto se la tecnologia è così pericolosa come apparentemente oggi sembra essere. Ebbene la mia risposta è sempre la stessa, parte da un presupposto fondamentale. Ogni strumento, quale che sia il più potente dal meno potente, è tale in virtù dell'utilizzo che ne fa. Quindi siamo noi a determinare l'identità di uno strumento. Tanto più ovviamente però lo strumento è potente, tanto più esige un sistema di valori che lo accompagni nell'utilizzo. Ma cosa significa un sistema di valori? Per sistema di valori io intendo un insieme di principi comportamentali, di discipline direttive che coordinino l'utilizzo di questo strumento in maniera universalmente condivisa. Cioè significa che non ci debbono essere incertezze su ciò che si può e non si può fare con quello strumento, su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato rispetto a quello strumento. Ovviamente la costruzione di questo sistema valoriale è tanto più difficile quanto più è potente questo strumento e tanto più impegnativo. Ma noi come genere umano oggi siamo chiamati a fare esattamente questo. Per qualsiasi approfondimento potete contattarmi e trovate qui tutti i miei podcast. Agnese Scappini, un saluto!